In che anno scoppia lo scandalo di Tangentopoli? Nel 92 Esatto Che noia giocare così però... Facciamo maschi contro femmine Va bene! Grazie! No, faccio la domanda No, 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 no No, stai dritta che sei sono vicino Ma no, cosa la voglio? Oh, come no? Guarda, si fare questo E' l'unico da fare questo Faccio questo Ma questo no Sornatevi nel vostro paese E' la mia vita Siamo fatta 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 la mia vita E' la mia vita No, 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 no.